L'impresa è fatta, il campo basso si salva e compie il miracolo. I numeri sono da impazzire, 29 punti nel gerone di ritorno, 38 portano la firma di Bullo che non partecipa alla festa dei suoi ragazzi. Un gruppo eccezionale e irripetibile, Maidomo di fronte a un mare di difficoltà. Dopo la trasferta di Melfi, ultima giornata, via anche alla partita societaria. Sfortunato il debutto di Pascucci che si infortuna in uno scontro di gioco dopo appena tre minuti, deve entrare al suo posto esposito. Il campoposto ha fretta di sbrigare la pratica a salvezza, l'undicesimo Curcio manda alle stelle un mancino da correggere. Cinque minuti più tardi fella, si fionda su un pallone firmato Forgione, la palla scorre non troppo a lato. Il baby Fondi di Fratena fa dell'organizzazione la sua forza, i laziali non ci stanno a partire già sconfitti a Selvapiana. Il clima fa le bizze dalla tempesta a una certa quiete caratterizzata da un timido raggio di sole. Vullo inverte gli esterni, felle di vicino, il classe 93 rosso-blu, al 32esimo scocca un mancino. Non troppo insidioso a dire la verità. Tre minuti più tardi, angolo di di vicino, inzuccata di bussi, molti invocano la rete, la palla esce di poco. Ancora Lupi che chiudono in avanti e il 38esimo fella produce un tiro più che un cross, la palla vede il palo, mentre Maiella ancora chiede il passaggio al centro al compagno. 41esimo di vicino a vita, De Lucia schiaffeggia la palla in angolo, tutti al riposo, Campopasso determinato a sbloccare la partita senza riuscirci di fronte a un Fondi che ha tenuto bene il campo. Nella ripresa al settimo si gira bene in area Paganini, la porta rimane distante, la inquadra bene però Petrassi al nono quando mette in rete il destro dell'1-0 al termine di un'azione prolungata in cui avevano precedentemente sfiorato la rete anche Forgione e Minadeo. Applausi per Petrassi, il Fondi chiede un'irregolarità sul gol rosso-blu. Vullo tocca la salvezza con mano, il Fondi continua a non starci e pareggerebbe al 22esimo con un inserimento di Bernasconi su cross di Fava se non fosse per un fuorigioco della punta laziale. Minadeo è abilissimo nel gioco aereo, uno spiraio è concesso al 24esimo a Paganini che colpisce spedendo a lato. I lupi inseguono la rete della sicurezza, al 34esimo fella, non dosa bene il cross, di vicino si tuffa comunque mancando l'impatto con la sfera. Vullo concede gli applausi del pubblico a Forgione che al 37esimo esce lasciando il campo allo junior Giannuzzi. Classe 94, il Fondi raggiunge un meritato pari al 39esimo con un sinistro esploso da Giannusa su cui si tuffa. Vanamente Giuliano. I laziali si riservano delle occasioni importanti nel finale ma prima al 42esimo c'è una punizione di di vicino respinta da De Lucia. Giuliano protagonista al novantesimo quando deve sfiorare quel tanto che basta una saetta di Cirina in angolo. Dal corner ne nasce una bagarre in cui il neo entrato Palumbo si vede fermare sulla linea da Minadeo che evita la capitolazione. Infine è di vicino a regalare l'ultimo sussulto al 94esimo con una traversa con il sinistro davvero spettacolare. La salvezza è matematica con un turno di anticipo via alla festa tra tifosi e giocatori seminudi. L'impresa è compiuta, gli aggettivi si spregano per un gruppo di ragazzi straordinari e uniti per la pelle.